Mi sono alzato in piedi per voi, siamo a Piazza Sant'Anna a Teramo, non per parlare delle feci, dei cani che sono libere senza essere state raccolte, non per farvi vedere i soliti pinti e dipinti, murales, sigle, a macchiare, a rendere indegradabile l'aspetto di monumenti e altro. Siamo qui per raccontarvi la storia di alcune sedie, sedie e tavole che vengono prese dai ragazzi, sedute abbandonate vicino a un bar che ha chiuso, un ristorante che ha chiuso. Ci vorrebbe una diffida perché queste sedie vengono lanciate, c'è un nuovo gioco perché dopo essersi ubriacati, dopo che una persona si fa una canna o altro, dopo lo spaccio che vive qui a Piazza Sant'Anna c'è il lancio della sedia, si rompono anche i piedi, i piedi vengono usati anche per picchiare, per lanciare contro altri ragazzi, quelli che una volta erano ricordi di serate a mangiare una pizza qui a Piazza Sant'Anna. Ecco, Piazza Sant'Anna è diventata il ricordo di quella che era la sede dell'antica cattedrale di Teramo. Ora non c'è più traccia di amministrazione, non c'è più traccia di civiltà, ci vorrebbe una diffida perché queste sedie dovrebbero essere portate via, ci vorrebbe più controllo. Sì, ci vorrebbero tante cose, eppure non c'è nulla. Ci è rimasto quello che è il segno vero della maleducazione che vive qui in questa città, che non riconosciamo più da molto tempo. Sì, ci vorrebbero essere portati a Piazza Sant'Anna.